Non lasciar morire un esempio di questione in marketing territoriale è l'associazione Valle Pellinientasca chiamare a raccolta tutte le forze che agiscono sul territorio amministratori, imprenditori, operatori del settore turistico, associazioni e semplici cittadini. Dopo due edizioni del nostro Deplian estivo e invernale per un totale di 27.000 copie e il lancio del nostro sito www.vallepellinientasca.it con 278 eventi pubblicizzati in poco meno di un anno di vita della nostra associazione sentiamo il dovere di chiamare a raccolta tutte le forze che agiscono sul nostro territorio spiegano dall'associazione ad ognuno chiediamo di darci il proprio contributo per dare seguito alla nostra idea nata da un gruppo di cittadini che amano il proprio territorio ma ora ha bisogno di vera coesione. Soltanto sul nostro sito si legge in una nota abbiamo ricevuto dal 5 dicembre 9.027 visite tutto questo però non basta. Vorremmo una risposta maggiore da chiunque vive in questo territorio, un incoraggiamento, un contributo di idee. Stiamo già raccogliendo gli eventi per il Deplian per l'estate 2016 sperando di riuscire a continuare in questa opera di diffusione di quanto di bello si fa e realizza nel nostro territorio. Vallepellinientasca chiede unità per permettere che il progetto vada avanti perché conclude ne guadagna l'intero territorio. Per contattare l'associazione si può inviare una mail a as.vallepellinientasca.gmail.com dove si troveranno tutte le indicazioni per richiedere la tessera.